Buongiorno, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento meteo. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare like e attivare la campanellina. Parliamo oggi del tempo previsto sull'Italia nella giornata di oggi, quando a seguito dell'entrata di aria più fresca di origine atlantica avremo fortissimi contrasti termici che a partire dal pomeriggio attiveranno sistemi temporaleschi molto intensi a partire dalle Alpi centro-orientali, poi in spostamento su buona parte dell'Alta Lombardia, del Veneto, del Trentino e del Friuli Venezia Giulia. Qui avremo la formazione di nuclei molto intensi che potrebbero scaricare molte acquazioni con possibili grandinate e nubi fragi molto intensi. Non escludiamo possibili supercelle. Poi nella nottata il maltempo si sposterà soprattutto su Piemonte e Lombardia con il rischio di una supercella tra Torinese, Cunese e Astigiano. Avremo un indice CAP che nella serata di oggi si orrerà valori fino a 3000-4000 J per kg con un indice di possibilità supercellulare molto elevato nella nottata sull'Astigiano.